Nico, hai già pranzato? No, guys, ci devo ancora pranzare in realtà. E sto sentendo il down del fatto che non ho pranzato. Mi mangerò una banana. Per... Per l'energia. Questo è il segreto dello streamer. Bananase. Il bananone. Eccolo qua. No, il bananone. Una banana di dimensioni giuste. Quindi ne avevi comprate due, meno male. Sì, sì, così una la mangio. Anzi... Voglio fare una cosa per infastidire le persone. Benvenuti nell'angolo del fastidio. Adesso vi sentirete mangiare fortissimo una banana. ECC 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 Spero vi piacciono le banane picchie di puttana, perché ancora non è finita. Adesso c'è l'ultimo boccone. Peccato, dal tasto donna 20 abbonamenti il cursore si è spostato sul segnalare. È bizzarro come i due pulsanti siano così vicini, no? Se ci pensi, a volte, le cose sono strane. Ciao, ciao ciuspino. Scusami, è finito il momento del fastidio. Possiamo tornare alla regolare programmazione. Oh!